bene ebbene eccomi qua eccomi qua basta con questo cellulare basta la luce e dello schermo ogni volta che aumenta il brillo poi diminuisce poi aumenta chissà perché voi ditemi ma non ho intenzione di accendere la luce della basur e strano effetto miglior toglieri la protezione ecco dopo tanto tempo faccio queste live e notte è finito il festival di sanremo io non ho fatto altri video su sanremo segno proprio che me ne poteva fregare di meno ho tolto la protezione del cellulare perché altrimenti si surriscalda me ne poteva fregare di meno di sanremo ma me ne è fregato che bello questo effetto speciale sfruttando la luminosità naturale e dello schermo con un altro cellulare non sarebbe successo sarei rimasto al buio ma non mi va di accendere la bajura ma non mi va di accendere la bandina come per quanto anno a Madhus ha direto il festival di San Bello è mancato a Fiorello per quello che mi posso regare effetti che stanco alle 5 del mattino che ora sono 5 e 23 con questo effetto speciale bene fantastico di male in peggio di male in peggio ma che effetto speciale però vabbè Sanremo è finito gli effetti speciali la messa in scena è stata mostruosa il denaro che si è sprecato però Sanremo quest'anno più che mai è stato come quelle scatole di cioccolatini o quelle copertine di libri sgargianti no? quelle scatole sgargianti quelle copertine di libri così illustrate poi vai a leggere il libro è una schifezza monumentale vai a mangiarti i cioccolatini o i biscottini puh gli spurti però c'erano una volta forse ci saranno anche adesso delle scatole di cioccolatini o di biscottini a cioccolato in ferro coloratissime carissime eppure eppure la schifezza da mangiare che c'hanno dentro non ve ne rendete conto se no non le comprerete una schifezza di biscotti in scatole costosissime cioè il biscotto praticamente non costa nulla e acqua e farina però la scatola come pitturata come smaltata magari ci sarà anche d'oro che no che io poi volevo salvare questa live nel mio canale secondario di youtube quindi che mi saltano a fare queste musiche e che effetti speciali sono facebook già fatto una live con la piattaforma viola è tardi ma ho voluto fare questa live ci tenevo proprio quanti effetti speciali ma qua c'è la bandiera francese sembra una specie di di tik tok ma ma che cosa è questo cambia fotocamera no mamma mia ce ne sono tanti ma non so quale sceglie ma ho voluto fare ho voluto fare una live qua perché mi sono svegliato alle 5 del mattino e ho detto basta di fare live su youtube poi poi mi sta per regalare mia madre un selfie stick un selfie stick con luce led e tripode mi voglio convertire tutto in un professionale delle dirette e quindi ritorno qua su facebook ma non mettendo i video ma c'è un naso che mi sono fatto fatto a mano per Don Moco purtroppo c'è occlusione nasale sono fatto un nasino della madonna e e e allora con il bastone con il selfie stick ogni occasione per fare una live sarà quella giusta starò facendo live tutto il giorno per il mio canale principale di youtube per il mio canale secondario per tiktok per la piattaforma viola per instagram e anche per facebook starò tutto il giorno facendo live 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 ma ve lo immaginate ci sarà santa enchani per tutti mamma mia ecco questo effetto speciale speciale perché sfrutta di più la luminosità dello schermo che io ho messo al massimo vado al massimo vado a gonfie peri come ha detto vasco lo si sbagliandosi perché voleva dire vado a gonfie peri e invece ha detto vado a gonfie peri e e oppure l'ha detto apposta l'ha detto capito capito mi hai e voi che ne pensate voi che ne pensate che è finito Sanremo io ho fatto dei video nel mio canale di youtube e questo lo dico a beneficio di quanti staranno ancora guardando questo video questa live voi che ne pensate i commenti saranno visualizzati qua per il momento non c'è nessun commento ahiaiai però ecco qua non ti dice le persone che sono realmente connesse perché quelle che stanno in linea adesso potrebbero pure accettare di partecipare e vabbè vediamo un po' volevo invitare gente ma poi e poi devo andare a dormire e perché mi sono svegliato per andare in bagno io ho detto da giorni che volevo fare una live in facebook perché non la faccio perché perché non la faccio e adesso come si vede male il naso quasi quasi mi opero io mi opero da me io non vado a farmi la rinoplastia io la rinoplastia la faccio a mano così mi si continua a aggiustare il naso è è sto lanciando una inchiesta dovrebbe essere partita un'inchiesta un pool un pool riguarda i miei video in youtube ecco e niente io cerco di trovare persone da invitare ma non mi dice quelli che sono presenti non mi dice quelli che sono presenti che sono connessi annessi basta mi sono stancato di questo filtro poi c'ho c'ho qua che è oscuro c'ho delle vene effetti ah e questo che significa wizard carol giulio boh oh e beh questo questo mi fa più figo mamma mia che strano no 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 decisamente questo questo non mi piace questo questo è troppo strano no un'altra un'altra volta scritta scritta coreana e sono sono il ritratto parlante oppure sono l'immagine allo specchio 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 delle mie brame chi è il più bello del reame e devo fare la barba e devo fare la barba barba devo fare la barba non ho provato tutti i filtri perché perché molte sono scritte così 24 giugni in che sta scritto e no la musica parte tiro metro zero slow food con una tartaruga ma che ma che se mangiano la tartaruga e non si sa mai questi vegani questi vegani c'è 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 la tartaruga slow food e io preferisco il il una bistecca magari sarà food veloce ma insomma fast food ma insomma meglio la carne o una tartaruga ah ecco sempre i disegnini si sta su riscaldando il cellulare che è una meraviglia e questo che ecco io mi sono tolto i miei occhiali ma qua me ne hanno messo un altro paio e vabbè sì sì che saranno affetti speciali nell'ambiente perché molti non funzionano via dell'audienza via dell'audienza ое questo avven我 sonno e il Grazie a tutti. 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 E se voi volete aiutarmi, se voi vorreste aiutarmi, mi raccomando, guardate il mio canale di YouTube, San Ten Chan. E il canale è il canale principale, è il canale principale, è il canale principale, è quello che ha più video e più iscrivetevi, così mi aiuterete tantissimo. Guardate i miei video. e condivideteli, è il canale. ha tolto la custodialmente, è il canale, è il canale upperок, è il canale, описании. sono le 6, quasi le 6 del mattino, mancano, facciamo altri 12 minuti, facciamo altri 12 minuti, per intanto non si è unito nessuno alla mia live, ai ai ai, cattivi, cattivi, comunque questa è una live di prova e ne seguiranno altri, ne seguiranno altri. Mi devo fare la barba, barba. In pratica questa live non l'ha vista nessuno, o l'avranno vista e se ne saranno andati. Poi voglio vedere che audio si sente. Certo che si sta a scaricare la batteria e si sta surscaldando il cellulare, c'è il brillo al massimo, così non accendo la basura. Questa non l'ho capita. Verbi e Neymer. Per me non è capolata. La prima. Grazie. 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 Mi faccia. Grazie. Brazie. Grazie a tutti. Ah, sto male, sto male perché sono caduto uscendo dalla doccia, e sono caduto, mi sono fatto molto male, guardate che lividi. Guardate che lividi. E questo che cos'è? Ah, che carino. Per addormentare. Ah, ma per almeno la musica tolgo l'audio, tolgo l'audio così perché non ci ho pensato prima, e così se salta fuori qualche musica va perché la mette lo stesso, che cambia, però io non la registro. Ah, che carino. Ah, che carino. La prossima volta continuerò a sperimentare questi filtri, questi marchi. sono tanti. Ah, ecco. Che roba. Noi sto a ammazzare il sonno. E che cos'è? una zuppa, è una zuppa. Eääh... Una zuppa con un fumo. Eeeh... Ecco questa è bella. e che sono dei guanti ancora tre minuti in questo momento 5.57 alle 6 stacco anche perché anche perché non è entrato nessuno in live o tigre e praga molti filtri sono scritti ah ecco questo è bello it's other me devo togliere il suono ecco adesso vediamo se si sente dopo quando finirò la live ecco capito non mi interessa 33% di batteria mamma mia ah ecco bella forza sono diventato un fumetto ah 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 il cellulare che può fare da termosifone da radiatore eh io io non lo voglio consumare Ma se voi mi volete aiutare, abbonatevi al mio canale di YouTube Sant'Echan, troverete i video nel mio muro di Facebook, oppure comprate un super grazie sotto i miei video di YouTube, logicamente. Ah, ecco. Con una lacrima, anzi due. Vabbè, lo so che significa, ma la mezzaluna e mezz'ora a fronte, che cos'è? Altra luce evitata, i matrimoni. C'è. Non si rimpicciolisce. No, non riesco a utilizzare questo effetto. Vabbè, li devo lasciare, poi vedrò com'è venuto. Ci sono una miriade di effetti. Così stanco, il cellulare è così caliente. E so già alle sei e tre. Guardate come le anime sacrificate salgono verso l'alto. zero, ma che devo fare qua? non c'è per poi. Perché dice zero? non c'è per poi. No, non c'è per poi. Non c'è per poi. Non c'è per poi. Non c'è per poi. Colletta, ecco, fate una colletta a favore mio. Ma quanti effetti speciali ci sono? Non si arriva mai una fine. Ecco, non si può rimpicciolire, questo mi piace. E con questo effetto speciale vi lascio, ciao, ho il cellulare che ci avrà 100 gradi, come minimo. Grazie di avermi seguito. Qua ho fatto un ampio scroll, è impossibile scegliere qualcuno particolare. E qua sono ricominciato da capo. Mesta per arrivare il carnevale. Finito Sanremo, arriva un'altra pagliecciata. Ciao. Ciao. Adesso taglio. 6 e 7. E ora dormo fino alle 11. Ciao. 47 minuti di diretta. Non mi sembra vero. 30%. 30% altrimenti farei una ora. Come se taglia. Troppo caldo il cellulare e ho 30% di batteria. Mi spiace ma devo terminare. 4 e passo. Grazie a tutti.